Partiamo dal fatto che un narcisista manipolatore covert e overt è comunque un disturbo della personalità riconosciuto dall'OMS, cioè l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Sono persone vuote, sono persone con un enorme vuoto, non c'è un cuore, non hanno emozioni, non hanno empatia, non sanno amare. Non sanno che cosa significa sentimenti, perciò non è che non vogliono, non sanno, non gli interessa e fingono invece di provare amore, fingono di provare interesse per te, ma non lo provano. Maria, mentre stanno parlando d'amore a te, lo stanno scrivendo a un'altra, a un'altra ancora e a un'altra ancora. Mentre sono nel letto con te e tu praticamente magari ti addormenti, prendono il telefono e scrivono ad un'altra. Perciò bisogna imparare a vederli esattamente per quello che sono, il vuoto assoluto. Tu quando incontri una persona così proietti quello che tu vuoi e loro emulano ciò che tu vuoi in un uomo, te lo fanno vedere esattamente come tu vuoi, ma non sono loro, sono la loro maschera. Quando dichiarano amore non sono loro, sono una maschera che hanno costruito, maschere su maschere. La loro vera natura esce quando tu sei nella trappola, quando si godono nello svalutarti, nel triangolarti, nel portarti veramente all'esasperazione. E godono quando tu gli chiedi, per favore dammi una risposta, quando piangi, quando ti inginocchi. Ecco, questo è il loro massimo godimento, l'unica emozione che sanno, che hanno è quella di vedervi a terra. Ecco, lì sono felice.